vi mostro questa raffinata trapunta invernale è rifinita con un tessuto jacquard quindi un tessuto d'arredamento e leggermente lucido con questo occhio di pernice a rilievo tutta una trapunta molto elegante e anche molto calda perché l'imbottitura è in poliestere 350 grammi al metro quadrato quindi indonea per l'inverno per le persone freddolose lo potete lavare tranquillamente in lavatrice a 30 gradi vedete l'effetto è realizzata completamente in italia ed è trapuntata a capo infatti se la vedete sul bordo è tutta rifinita a capo vedete in fondo dai piedi alla rotondità ecco vi aspetto sul mio sito materassiburani.it